Da Weimar a Hitler. Nel 1918 in Germania abdica il Kaiser Guglielmo II. La fine dell'impero, quindi la fine del secondo Reich, dà l'inizio alla repubblica. Questa repubblica viene chiamata Repubblica di Weimar, dal nome della città nella quale fu approvata nel 1919 la sua Costituzione. Questa nuova repubblica nacque democratica, con deputati in un Parlamento e un presidente eletto a suffragio universale. I presupposti erano buoni, ma i primi governi repubblicani dovettero da subito affrontare una situazione politica instabile, con tentativi di insurrezioni sia comunisti sia nazionalisti. Nel 1919 a Berlino ci fu una sommossa comunista, in cui operai armati occuparono sedi di giornali e presidiarono gli uffici del Parlamento, ma questa rivolta venne rapidamente soffocata nel sangue. Nel 1923 fu la volta dei nazionalisti che tentarono un colpo di Stato, letteralmente Puig in tedesco, e provarono a impadronirsi di Monaco e dell'intera regione della Baviera. Questo, noto come il Puig di Monaco, fallì ed era stato organizzato dal partito nazionalsocialista guidato da un giovane che fino ad allora era rimasto sconosciuto, Adolf Hitler. Partito nazionalsocialista che verrà in seguito abbreviato in partito nazista. La Repubblica di Weimar, però, nonostante sia riuscita a respingere questi tentativi di colpo di Stato, ha gravi problemi finanziari. Problemi che sono dovuti ai debiti di guerra, in seguito alla Grande Guerra, e in seguito anche ai trattati di pace che vedevano la Germania condannata a pagare i vincitori con ingenti risarcimenti in denaro. Nel 1922 il valore del Marco, la moneta nazionale tedesca, crollò e i prezzi delle merci salirono alle stelle. L'inflazione travolse non solo le classi sociali più deboli, come ad esempio quella dei contadini e degli operai, ma anche gran parte dei ceti medi. Il governo tedesco, quindi, oltre che con i problemi economici, doveva anche occuparsi dei problemi legati alla politica, perché dal punto di vista sociale c'erano molte persone che erano ostili alle idee democratiche di uguaglianza della Nuova Repubblica. Infatti i grandi proprietari terrieri, i gradi più alti dell'esercito e alcuni imprenditori, si opponevano a quest'uguaglianza che prevedeva la Nuova Repubblica di Weimar. Un segnale evidente di questi principi antidemocratici che erano vivi in una parte del popolo tedesco fu l'elezione a Presidente della Repubblica nel 1925 di un candidato della destra, il maresciallo Polvo Nindenburg, che era il maresciallo che aveva sconfitto i russi in alcune battaglie come quella di Tannenberg e dei laghi Masuri durante la Prima Guerra Mondiale. Questo candidato ovviamente si poneva dal punto di vista politico alla destra, chiaramente a destra, ma ancora più a destra c'era il giovane Hitler, sempre colui che era stato a capo di quel tentativo di colpo di Stato a Monaco. Adolf Hitler si faceva nominare Führer, cioè Duce Capo, proprio come in Italia Mussolini si faceva chiamare Duce dai suoi uomini, ed era appunto il capo del Partito Nazionalsocialista. Hitler riteneva che la sconfitta tedesca nella Prima Guerra Mondiale fosse imputabile a un tradimento degli ebrei e dei comunisti, che venivano visti da lui come nemici dello Stato tedesco. Provetteva quindi un governo forte che avrebbe potuto ristabilire l'ordine in Germania e dare al paese la posizione di predominio che le spettava. Oltre a ciò, il Führer predicava l'odio contro quelli che venivano chiamati i nemici appunto dello Stato, come gli ebrei, i comunisti, ma anche solo coloro che erano democratici. Le sue idee erano molto semplici, molto elementari e riuscivano ad attecchire su alcuni, su una buona parte in realtà, dei tedeschi. E quindi il partito nazista riuscì ad ottenere molti, molti voti. questa idea, ideologia che portava avanti Hitler era affiancata alla politica molto più aggressiva delle squadre, delle camicie brune, che facevano una vera e propria violenza squadrista, simile a quella che avveniva in Italia con le camicie nere, e erano dei veri e propri gruppi che andavano ad intimidire gli avversari con la violenza. Hitler però non era ancora arrivato al potere in questo momento, ma si stava ritagliando solamente un ruolo importante nell'opinione pubblica tedesca. All'inizio del 1933 la chiave del successo di Hitler fu la nomina da parte del presidente von Hindenburg a cancelliere nei confronti di Hitler. Quindi Hitler divenne cancelliere, di fatto possiamo immaginarcelo, primo ministro dello Stato tedesco. A questo punto Hitler è al potere e può mettere in pratica le proprie idee.